L'altezza attuale dell'invaso del Liscione non raggiunge i 112 metri, circa 4 metri in meno rispetto al 2016, causa la prolungata assenza di piogge nel periodo estivo. Le precipitazioni nevose previste nei giorni a seguire dovrebbero scongiurare ulteriori disagi in tutto il Basso Molise. In lenta ma costante risalita la quantità di acqua nell'invaso di Guardia Alfiera, c'è stato allarme anche in assenza di copiose precipitazioni piovose dopo una lunga estate calda e secca che ha ridotto il Liscione come da anni non si vedeva. Fiduciosi gli esperti per l'arrivo ormai imminente della neve, quantomeno a cuote di alta montagna. Per i corsi d'acqua e tutti i laghi della regione sarà un rifornimento idrico di parecchie tonnellate, che tornerà utile per i successivi periodi primaverile ed estivo. Meno di 112 metri, attualmente l'altezza della diga nel suo punto più alto, almeno 4 metri in meno rispetto al livello idrico degli anni passati, con zone di terra emerse e ruderi di antiche costruzioni. Le preziose acque del lago servono gran parte di tutto il basso Molise per una popolazione di circa 70.000 residenti che aumentano in modo esponenziale nel periodo della bella stagione. Ma i disagi nei paesi sul litorale adriatico derivano oltre che dalla lunga siccità, dalle continue rotture degli impianti di sollevamento di Moliseacque, gli sprechi enormi delle risorse idriche per le falle negli acquedotti e per il vecchio sistema di approvvigionamento nella diga ai piedi dell'abitato di Guardia Alfiera. Con l'imminente entrata in funzione, a quanto pare, del nuovo acquedotto molisano centrale, si prevede risparmio energetico e l'assenza di sprechi di acqua a fronte di tariffe idriche leggermente ritoccate.